Sono Alberto Politori, presidente dell'associazione di volontariato Avisne da oltre 15 anni. Il nostro centro di umanoterapia tratta persone diversamente abili in forma completamente gratuita. È un lavoro difficile, duro e pesante e abbiamo bisogno del vostro aiuto. Sono Ameda Renzi e sono volontaria presso il centro di volontariato Avisne da circa 8 anni. Il nostro centro è aperto più di 15 anni e tratta circa una cinquantina di persone a settimana. Sono Andrea Quercini, sono un operatore professionale sciazzo e sono volontario presso il centro Avisne, umanoterapia. Diamo la nostra professionalità a persone meno fortunate di noi. Il nostro centro ha spese vive come affitto, luce e manutenzione e sopravvive grazie alle donazioni volontarie e grazie al vostro 5x1000. Siamo a disposizione per chiunque voglia visitare il nostro centro. Siamo a disposizione per chiunque voglia. Siamo a disposizione per chiunque voglia.